Diversi rappresentanti della lista della sinistra per San Giovanni disconoscono ufficialmente la scelta della propria eletta nel Consiglio Comunale Adria Gauni di uscire dalla maggioranza. Non è stata convocata alcuna assemblea degli appartenenti, simpatizzanti e candidati, fa sapere un elenco che comprende tra gli altri anche l'assessore all'ambiente Stefano Giuliani, prima che venisse presa una decisione così importante come l'uscita dalla coalizione di governo cittadino. In pratica esiste una spaccatura in seno al movimento in quanto la scelta di Gauni non è da considerare come esclusivamente personale. È del resto normale, prosegue il testo firmato da sette esponenti di SEL, che possano emergere posizioni diverse e interne a noi, ma queste devono trovare un'unica sintesi in un confronto politico. Un confronto che a quanto pare è mancato, che porta a due decisioni, il non riconoscimento dell'uscita dalla maggioranza e l'intenzione di dissociarsi anche dalle future mosse del consigliere Gauni in Consiglio Comunale, ribadendo quindi la fiducia nell'operato di Viligiardi e della giunta tutta.